Tullo, Antonio Boselli, cosa succede? Grazie a tutti. Tensione, no? Di straordinari, sapersi muovere bene, fare ognuno le sue cose, coordinarsi, cioè loro sono complementari, sono disanghi, sono riusciti a metterlo a posto, quindi bravissimo. Sì, 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 noi gli chiamiamo sempre quelli dei box, perché ogni volta che si va in quel box lì si fanno di vacanze, però non c'è da docare, ammarreranno le cose, vedranno. Sono così, ho fatto male di vivere tutte le situazioni con allegria, per mettere di comprendere la calma in momenti così dedicati per un pilota che è leader del mondiale, che si gioca tantissimo, che ha rischiato di fare 1-0, invece sarà rimesso in pista. Ovviamente è una condizione diversa, ma è l'ottimale, però è meglio che fare 0, sicuro. Box, sanno da un po' rosso, mentre intanto non stanno facendo pazzo. Ah, stanno raddrizzando sostanzialmente gli attacchi della carriera superiore, perché dopo la caduta magari si è un po' piegato. Sì, 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 sì.